Signori, durante i miei viaggi in lunga e in largo, per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte, dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le stanze infinite, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che susciterà l'interesse di diversi aspiranti re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il quattordicesimo starter deck del TCG di One Piece, Three Days, Two Years. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia le prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. La scatola presenterà un Luffy nel mentre carica un Red Hawk, pronto a colpire che domina solitario l'immagine principale, il numero seriale del prodotto, i marchi della casa madre, tutte le viciture del caso, il titolo del TCG ed il logo del prodotto a seguire sulla parte frontale, unicamente questi ultimi due su quella superiore, la tipica finestrella che riporta il leader del deck e le diverse nomenclature sia sul lato destro che sinistro e il contenuto dello starter più tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale dell'articolo. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete un mazzo principale composto da 50 carte che permetterà a chiunque vorrà vestire i panni di cappello di paglia in questa seconda versione nera, la prima risale all'ottavo capitolo di categoria, di usufruire di una dinamica che prima d'ora non era mai stata proposta in gioco, ovvero quella di aumentare il valore di costo dei propri character invece che diminuirlo. Infatti anche l'effetto dello stesso leader orbiterà attorno a questa dinamica e nello starter saranno presenti carte davvero molto interessanti che potranno trovare impiego anche in altri archetipi, come il Sanji costo 5, la Nico Robin e l'event I Have My Crew. Consiglio comunque di recuperare, per andare ad integrare nel migliore dei modi eventuali liste da montare, carte come i Brook costo 3 di EB-01 e i Luffy costo 7 di OP-04 in playset. che si sposeranno perfettamente con lo stage thousands anni, sempre presente nello starter, 10 don ed un talloncino che descriverà, come al solito, il regolamento veloce di gioco sul davanti ed un campo dove poter posizionare, in mancanza di un playmat, le carte del mazzo sul retro. Ora, dopo aver visionato l'interno dell'articolo, poniamo l'accento su un concetto molto interessante. Come per lo Zoro del primo starter, sempre di Luffy ma versione rossa, anche sul suo collega del quattordicesimo starter sarà presente la dicitura unica don per uno. Ciò starà a significare che, fino a che le condizioni richieste dall'effetto verranno soddisfatte, anche nel turno avversario il vostro leader risulterà essere un 6.000 in termini di forza. Quindi, di contro, se nessuno dei vostri personaggi possiederà almeno 8 come costo, inevitabilmente il vantaggio verrà nullificato. Quindi utilizzate nel migliore dei modi la stage che avrete a vostra disposizione e gli event come il già menzionato I Have My Crew e tutte le risorse che vi serviranno per abbattere ogni svantaggio che l'avversario potrà pararvi innanzi. Disponibile al pubblico ad un prezzo indicativo di 15 euro, questo prodotto fornirà un assaggio iniziale di una nuova meccanica di gioco che, se utilizzata al meglio e magari potenziata con supporti che arriveranno nei prossimi set, potrà dire la sua anche in vista di nuovi meta. Ovviamente, per tutti gli appassionati ne consiglio due copie così da avere ogni carta presente nello starter in 4x. In descrizione, come sempre, vi lascerò il link dove potrete acquistarli. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!